Allora è proprio deciso. Zappi, lei va a Zeu, non me lo faccia ripetere. Si attacca con l'imbranato di Poggi e lo segue finché la Giulia riprende il mare, chiaro? Sì. E se io mi rifiutassi? Eh? Che c'è? E do un cazzotto in testa. Quando parto? Domani. Ah, un mattinato, no? No, perché avevo dimenticato... L'ora...